Un applauso intanto ai ragazzi, semifinale abbiamo qui il PSG, subito dopo di loro abbiamo lo Sporting, un applauso per lo Sporting, semifinale anche per lo Sporting, poi abbiamo il PSG, il Barcellone, tanto si perde, bravi, 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 un applauso, un applauso, lotteremo per vincere, va bene ragazzi siamo pronti, Sampdoria Sporting, a tra poco, ok ci siamo, Batte Sporting, 3-1, a tiro, è stato bravo dai, potrebbe attirarlo che parata signore e signore, che parata, viene tolta dal 7, bel tiro eh, bravo, ok tiro Sampdoria, vediamo se il giovane Elia ha imparato dall'ultimo edizione di luglio, che tirava un po' troppo centrale, però, ah, più la notte, Elia deve essere onesta, 3-2-1, a tiro, passo a sé, signore e signori, pallone al soli, 1-0 Sampdoria, pallone, veloce, la stessa palle, dai dai che reggi il telefono, dai che ce la fai, non mi mollare ora, ci siamo? va bene, va bene, 3-1, a tiro, alla fuori, un attimo, fate pensare, secondo tiro, Sampdoria, è rovinato, c'è il capitone di Porto, sono quelli di agapitene di Porto, con le maglie più bianche, intanto, passa a voi, si passa, cosa abbiamo detto sul fatto di girare addominali? Sarebbe a farlo, sconto, 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 mi chiediamo Stefano, nel video, ora tutti stanno precozionando, voi sia, qualcosa da dire, perché stanno tirando un rigore importantissimo, che facciamo? Allora, siamo pronti, secondo tiro, Sam, 3-2-1, a tiro! Poi, nemmeno che facciamo? Ci arriva, ci arriva, ci ha messo bene, bravo bla, ma è allo sera, è bello? ?俺 è bene... che bello oggi? ? ma non vuol dire bene, è bene... e va bene pareggio dello Sporting 1-1 tiro ancora per giovane Lia della San Pedro Silas Silas 08 su YouTube Silas 08 su YouTube Silas 08 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 YouTube Voglio salutare Mirko Vallone Lascia lui Togli la roba davanti al pattino 3-2-1 Terzo tiro 2-1 Per la San Pedro Attenzione lo vedo bene La San Pedro Ancora no Siamo solo 2 a 1 Quarto tiro per lo sport Non ti sbagliare 3, 2, 1 A tiro Sampdoria Se segni Pass Se sbagli Vediamo che fa lo Sporting 2 Questo può essere il tiro finale Se lo fa Aspettate Che vanno 3 a 1 Ultimo tiro Se segna Passa il finale 3 eliminato 3 e insegnato Nooo Che parola La prossima volta Ora Tarancio Io devo darti il via Ora Tarancio Hai sbagliato Tarancio Aspetti Aspetti Arrivare Quattro squadre Allora ci vuole la parata di Pepi stavolta per farli passare Se non pari andiamo oltranza Pari avete vinto Se segna oltranza Vediamo Ok Aspettate via Aspettate via Aspettate via Giustamento Un po' troppo lunghi E avanti Guarda Inietro V Ok Vediamo se Pepi porta a casa la vittoria con una parata 3-2-1 Alti lo Sport Siamo oltranza È gol Sì Ma non è ancora oltranza Non sta il gol di lui Perché lui è tipo tiro Quindi se faccia gol Non è ancora oltranza Oh Aspettate Allora Stampdoria Se segna Hanno vinto Passano in finale Forse Portiere Pronto 3-2-1 A tiro Dai Lì Se lo faccio Se lo faccio Se lo fai No Se lo fai Se lo fai Se lo fai Se lo fanno Allora 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 Comunque è bel tiro Guarda chi se la traversa Guarda chi se la traversa Allora 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 3-2-1 Aspetta 3-2-1 A tiro 3 a 3 sembrava finita e invece no e lì ha riaperto tutto 3,2,1 Sporting al tiro stai calmo ma Platini che correva così se sbagliava uno con calmo aspetta no ok non c'è la fa fuori ma i capri se segna passano vediamo se passa la samba oh in caso fai il gol fai un bel tuffone allora 3,2,1 al tiro 3,2,1 al tiro il bambino il bambino non si guarda 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 è sfiorato là è infinito una cosa non devono fare toccare i pali ok 3,2,1 a tiro balla e il bambino bellissimo abbiamo Silas ancora lui chiamato in causa è gol è gol 4,3 per lo Sporting 3,2,1 3,2,1 a tiro parata eliminata eliminata passa lo Sporting in finale a tra poco Barcellona PSG ok Barcellona PSG al tiro Barcellona è arrivata in semifinale complimenti saluto anche al suo fratellino Tommy ciao Tommy e a mamma Laura ormai è da famiglia che è il bianco che è il PSG al tiro parata 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 perché c'è il bianco parata 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 guarda l'atterrava così scusate cosa ho detto cosa ho detto questa è qui fai il butta fuori se uno si parla qua viene registrato tutto qui dentro ho parlato di tutto funzioni come butta fuori ok siamo Barcellona al tiro dai dai all'arriva Barcellona a tiro 3-2-1 a tiro 3-2-1 PSG al tiro Gaketina bianco legato questo tira questo regaliamo stiamo due a due Barcellona due PSG due quarto tiro del Barcellona VAMOS! PSG PSG, quarto tiro un pochino abbassato e ritirarla fuori VAMOS! VAMOS! 3 a 2 attenzione potrebbe essere un tiro più di cosissimo potrebbero andare in finale grazie a questi gol oh mio Dio cioè il Barcellona era partito alla grande poi che è successo? basta basta è anche indietro? indietro va bene ok va bene ok quinto tiro PSG aspetta a Barcellona allora se sbagli non è ancora finito VAMOS! attiro l'ultimo tiro lo stesso eliminato già il Barcellona si è eliminato l'ultimo tiro lo stesso sbagliato Barcellona due gol patti facciamo battere l'ultimo tiro lo stesso 3 a 1 a tiro ok va bene PSG basta si è arrivato in semifinale grande Barcellona è la partita ragazzi vai avanti lo Sporting per la finale finalista avanti lo Sporting Lisbona Sporting venite qua Sporting Lisbona Gabriele e il suo amico Gabriele e il suo amico come si chiama? Mattia Sporting Lisbona siete arrivati in finale cosa ne pensate? è stato bello però sono meno ce la farai? sono meno no ehi perché è bravo in porta e la successione sembra una una un'altra ma allora eh sta a tirare eh la piazza venita va bene ragazzi questo Sporting Lisbona Mattia e Gabi vediamo un po' che succede a dopo ragazzi avanti ok questi invece sono sempre dei Ronchiponente anche loro Ronchiponente abbiamo Massi e Sofi papà e figlia molto brava gli avrebbe detto una scommessa del caccio quando stai disgraziata vedoci ciao a portare Sofi allora sei contenta di essere arrivata in finale? si papà Massi si si ora i butti per la soddisfazione della Sofia a parte sei arrivata qua sei stata già fortissima ma io sono convinto potrete fare anche meglio va bene guardiamo come va a fine questa finale a tra poco ragazzi credo vai vai forza un applauso per la finale tutti tutti va bene li aggiungo con quel coso finale Sporting Lisbona è una mamma Eva PS5 3 2 1 a tiro a racconto a racconto mi sei buttato ci sta mettendo impegno proprio per te proprio per te io ti fò per voi eh vediamo un attimo un attimo un attimo che sta raccogliendo i denti che hai lasciato in terra là raga intrattenimento che è successo? bravo te fammi un po' portiamo avanti che è successo? intrattenimento balli lì Fortnite? intrattenimento aspetta quello del cavallo no a Luisa questo cosa ha perso? i denti guarda se c'è i denti i denti sono tutti via attratto Viola non c'è un balletto da fare di trattenere in pubblico prenderlo fai tempo? si trattenimi in pubblico ecco abbiamo qui Federica ci mostrerà una ruota a suo metro guardate l'amplié è una bella ruota finale guardate la stile la classe la gambetta tirata la precisione da la nostra Federica grazie grazie Federica un applauso scrosciante grazie 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 Stefano Alessandro è finito se non so no non so che è successo qualcuno può andare a sentire che è successo magari informazioni che è successo? si la collana la blocchiamo un attimo c'ho tra poco ragazzi è colla ok ci siamo primo tiro anche per dove la metto ste qui? IFG mi vedi più o meno che sei 3,2,1 al tiro che caccia città l'unica all'inizio all'inizio mi servirebbe una penna 0,0 dai già ci ritengo ricordiamo a memoria basta Frank devi ricordarlo ci siamo Sporting Lisbonne a secondo tiro vediamo 3,2,1 3,2,1 3,2,1 a tiro secondo tiro per PSG dai che ci siamo siamo quasi alla finale ragazzi è la finale siamo alla finale alla finale della finale quindi se hai sbagliato secondo tiro a tiro a tiro a tiro ah è la pensata è la pensata eh ok terzo tiro PSG certo secondo sonora un po' ancora uno a uno terzo tiro PSG a tiro a tiro Grazie a tutti. 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 3, 2, 1... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.